Un saluto a tutti gli amici del Cornel Sampdoriano, oggi ragazzi si parla di un argomento molto dedicato, l'avete già letto dal titolo, andiamo a parlare di quello che sta succedendo in società, andando a leggere il comunicato ufficiale di Ramato della Sampdoria e poi andando a vedere anche le conseguenze di questo, le scelte nuove di Marco Lanna perché è stato scelto il nuovo direttore sportivo, quindi andremo a vedere pian piano quello che sta succedendo. Come al solito prima di iniziare vi ricordiamo di iscrivervi al canale, se è contento che vi piacciono, lasciare un pollicione su, iscrivervi e seguirci sul nostro canale Instagram Corner-Sampdoriano e poi ci trovate ogni mercoledì sera live su Twitch. Detto questo partiamo, partiamo con questo comunicato uscito ieri alle 14.20, lo andiamo a leggere insieme perché il Consiglio di Amministrazione di Unione Calcio Sampdoria si è riunito oggi a Milano presso Banca Lazard per ottenere un aggiornamento, dal processo di vendita del club. Erano presenti il trusty e i responsabili di Marca Lazard. Lo stesso CDA ha deliberato di convocare l'Assemblea degli azionisti per il prossimo 14 dicembre. Sono stati notiziate delle trattative in corso, sono coperte dal massimo riservo richiesto dagli interlocutori. Le informazioni sul processo di vendita sono coperte da vincoli di riservatezza, sino a che non verranno formalizzate anche al Consiglio di Amministrazione. È un comunicato che mi fa sperare perché ci sono state queste trattative negli ultimi mesi tra appunto Altani, che secondo me andremo a parlare adesso ma è tutta una copertura. Il fondo Cerberus secondo me era un fondo che realmente voleva acquistare la Sampdoria ma per diverse motivazioni non ci è riuscito ed è la mia più grande paura che andiamo a vedere adesso. Quindi cerchiamo di andare a vedere nel dettaglio cosa sta succedendo. C'è la figura di Massimo Ferrero che gira, 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 gira e purtroppo le dichiarazioni negli scorsi giorni sono una conferma perché comunque Massimo Ferrero ha detto di aver scelto Marco Lanna, di averlo messo al suo posto, tutto questo per creare casino e confusione nella società Sampdoria. Ed è un comportamento che ci si può aspettare da una persona come Massimo Ferrero. Il problema è che in società a parer mio ci sono ancora delle persone che lavorano per lui. Ne ho un esempio Vidal ma non voglio dire troppi nomi. Secondo me quello che si è andato a creare è un qualcosa di veramente brutto. Nel senso il fondo Gerberus alla fine non era riuscito a concludere la trattativa in termini economici se non ricordo male. E non vorrei che proprio Ferrero non volesse che la Samp venga ceduta fino al 7 dicembre. che è il giorno in cui lui potrà tornare secondo la condanna eccetera eccetera ad agire economicamente forse non al massimo però comunque dovrebbe essere un po' più libero. E questo non è una buona notizia. Io non vorrei che Di Silvio sia la faccio grossa d'accordo con Ferrero perché comunque le dichiarazioni di Di Silvio sono state Io non conosco Ferrero ma chi lavora in Sampdoria vuole il male di essa e questo non va assolutamente bene perché più o meno è il succo di quello che dice Ferrero. E di questo Altani non abbiamo ancora la prova. Le lettere dei giorni scorsi sono paresemente false, ne abbiamo parlato in diretta. Quindi c'è veramente molta 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 preoccupazione nell'ambiente Samp. Però questa Banca Lazzar forse è l'ultima speranza. Questo 14 dicembre sarà una data sicuramente importantissima che ci saprà dire molte cose. Ci saprà dire se Banca Lazzar riuscirà a finalizzare. Comunque il 14 dicembre sapremo molte cose. Ed è una data a me molto cara, uno dei derby in sud del 2019, il 14 dicembre 2019 con il gol di Manolo Gabbiadini. Quindi è una data che storicamente porta bene e speriamo che possa continuare a farlo. Detto questo, noi speriamo assolutamente che l'attrattativa vada in porto senza ovviamente la presenza di Massimo Ferrero nella nuova società. Perché a quel punto sarebbe punto a capo. Quindi l'unica speranza è appunto quella di non rivedere mai più il signor Massimo Ferrero nella società di un'unione calcio Samp. E oggi, stamattina, è arrivata questa notizia. Questo nuovo direttore sportivo, scouting, chiamatelo come volete, che è Mattia Valdini. Che aveva portato giocatori come Mustafi, se non ricordo male. Andiamo a leggere qui. Sì, Mustafi, Romero e Sueriano alla Samp. Quindi comunque aveva un passato con Nicolò Riboli Cerchiati. Ha lavorato anche al Bologna. È un uomo che indubbiamente di calcio ne sta. Così facendo Ostia e Romei tratteranno solamente del mercato in uscita. Quindi anche questo ci fa capire che comunque Marco Lanna sta cercando di muoversi per cercare di regalare alla Samp un futuro un po' purosio. Non è che ci voglia molto perché più in basso di così la vedo molto dura. Però io sono dalla parte di Marco Lanna. Sono convinto che lui, davvero Sampdoriano, stia lavorando a fine di dare il meglio per quanto riguarda la Samp. Diciamo che comunque rimane questa preoccupazione da parte di noi tifosi perché comunque è una situazione surreale. Dopo questo fondo Cerbrus che non ce l'ha fatta. Poi questa lettera d'Altani che è falsa, la firma falsificata anche che è anch'essa l'unica, l'unica, l'unica speranza è appunto questa bandera. Ed è molto incoraggiante però secondo me il fatto che ci sia stato un comunicato dall'Unione del Sampdoria. Cioè questo è un comunicato ufficiale ed è quello di cui avevamo bisogno una conferma, non parole come faceva il signor Di Silvio. Volevamo una conferma precisa ed è arrivata con questo comunicato e noi dobbiamo solamente aspettare. Sono due mesi in cui la Samp dovrà lavorare con questa tournée in Turchia. Ci saranno quattro amichevoli, cinque amichevoli, non si sa ancora. Ed è una Samp che deve ritrovare assolutamente serenità, forma fisica e poi lavorare sul piano tecnico-tattico con Dejan Stankovic. Che è stato confermato, l'arriva dito Marco Lanna che ha parlato poi anche di quello che sarà il mercato di gennaio. La Samp ha un bilancio veramente negativo perciò prima di comprare bisogna vendere un po' come abbiamo fatto l'anno scorso. E sarà molto molto difficile. Molto molto difficile salvarsi. Io ci spero ma come ben sapete, come l'abbiamo parlato già negli scorsi video, sarà una lotta veramente molto molto dura. Perché comunque ci sono squadre più attrezzate con un ambiente un po' più normale. Perciò la Samp deve continuare a lavorare, sperando che Marco Lanna riesca a trovare un modo per far uscire la Samp da questa situazione. Con la cessione societaria che assolutamente è d'obbligo. E poi magari cercare di costruire anche una squadra un po' più attrezzata con il mercato di riparazione a gennaio. Detto questo, ci seguite in live in tantissimi e vi ringraziamo perché quella di martedì sera è stata una puntata molto importante. Dovevamo andare in onda mercoledì ma visto quello che era successo ci sembrava doveroso andare in live il martedì. Però sapete che l'appuntamento generalmente è mercoledì sera all'ora 21. Quindi voi continuate a seguirci, iscrivetevi al canale, lasciate il pollice a me se il video vi è piaciuto. Da Mattia è tutto, da Corner è tutto, sempre Forza Samp.